Una pellicola proiettata nell'aula magna delle Molinette a Torino e una tavola rotonda nella sala conferenze dell'hotel Rivarolo di Rivarolo Canavese per denunciare la violazione dei diritti umani in Cina e auspicare la libertà in ogni parte del mondo. La coppia di iniziative è stata realizzata con il contributo dell'Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale.